ciao a tutti allora recensiamo l'ultimo album di satanic war master cappeggiati come sempre da werewolf che può l'istrumentista in questa band questo è l'ennesimo album che dimostra come il black metal sia sempre vivo e vegeto i paesi scandinavi giocano sempre un ruolo di primo piano in questo anche se devo dire che ultimamente il black metal di qualità arriva da qualsiasi parte del mondo ma satanic war master in un certo senso porta avanti quella tradizione black metal e soprattutto se riferiamo al black metal della seconda ondata e quindi quella che ha avuto più risonanza negli anni 90 sia per meriti musicali che per meriti extra musicali quindi fattori legati diciamo alla sfera diciamo dei crimini che quella scena ebbe satanic war master porta avanti quella tradizione fatta di black metal nudo e crudo con piccoli inserti di tastiere che però si fanno sentire anche in questo album non parlerei tuttavia di symphonic black metal parlerei di black metal nudo puro e crudo onestamente non mi interessa nulla di parlare del satanic war master che tanti dipingono e che tanti odiano per le sue simpatie o presuntetali verso una certa frangia politica io da sempre sono qui per fare recensioni musicali o di fumetti o di film di quello che è e non mi interessa assolutamente questo aspetto qui quello che posso dire che l'ultimo album questo ammongandr spero di averlo pronunciato bene perché comunque non parliamo la lingua inglese nemmeno con l'italiana ma credo che parliamo il finlandese è un album che non dura tanto non è prolisso un album che dura 36 minuti ma che dice tutto quello che dovrebbe dire secondo me il black metal nel 2022 e anzi facciamo 2023 perché questo album è uscito il 17 di dicembre del 2022 quindi alla fine di dicembre siamo praticamente nel 2023 ed è uscito ad praticamente otto anni di distanza dal precedente album che a me era piaciuto molto anche quello secondo me rappresentava il black metal nel suo stato migliore nella sua purezza e si intitolava fin bull winter allora cosa di nuovo questo album di satanic war masters direi assolutamente nulla ma quello che ha sostanzialmente sono le buone canzoni le buone idee a mio avviso werewolf è un musicista veramente di talento riesce a dire grosso modo sempre le stesse cose ma riesce sempre alzare un pochino l'asticella della sua proposta proponendo sempre un qualcosa di migliore un black metal sempre sempre legato alle sue origini quindi ai primi ai primi vagiti della seconda ondata black metal nord europea e al black metal che i satanic war master hanno contribuito a definire col loro stile però noto che di album in album abbiamo un perfezionamento dello stile di satanic war master e di quel concetto di black metal questo come dicevo lo si fa attraverso dei riff taglienti ispirati molto memorizzabili delle melodie che sono pressoché quasi sempre malinconiche ma allo stesso tempo diaboliche un cantato che è assolutamente nei dettami del black metal old school però soprattutto quello che vorrei evidenziare che quello che non manca mai è un songwriting di qualità quello che troverete anche in questo among under un disco suonato bene pensato bene fatto per i fan del black metal e fatto probabilmente da uno degli ultimi black metaller in circolazione proprio a tutto tondo perché vediamo che tanti altri gruppi si sono lasciati andare a altre declinazioni del genere o si sono o si sono sciolti o comunque hanno cambiato qualcosina satanic war master non l'ha fatto come dicevo ha solo perfezionato il suo stile è riuscito a confezionare un nuovo disco assolutamente convincente che rasenta in alcuni tratti anche l'eccellenza riffing affilato gelido ispiratissimo black metal nel suo stato di grazia migliore tastiere che vengono messe con parsimonia ma che servono molto al risultato finale del disco va bene ragazzi io con questo finito fatemi sapere qua sotto se avete ascoltato l'album se vi è piaciuto con questo vi saluto e al prossimo video ciao